Ecco adesso andiamo dopo le biciclette di una volta. Questa è una vecchia? Questa è la mia vecchia. Questa qua ho fatto la prima corsa a notte serate. Avevo 19 anni. Qui poi ha lavorato, le ha dovuto trappare il ciclista, ha fatto altre cose. Ho fatto un po' di tutto. Cominciato, ho fatto il moratore. 15 km. E quindi come si andava? In bici? In bici, è logico, con la bicicletta come la sua, qua la femmina. In corsa mi piaceva stare sempre ultimo, stare dietro in un parcheggio. Mi piaceva guardare in giro. Dicevo, ma cosa fai tu qua dietro Coppi? Poi lui è morto quando siamo andati a Correa Orano, in Algeria. E poi noi siamo venuti a casa, io, anche Tile, Strabinski, tutti i francesi sono venuti a casa e loro sono andati giù in Centrafica. Fausto era un corridore, vero? Io sono stato un corridore, fra Gregario ho fatto un po' nel mio meglio. Guardi adesso le faccio vedere una cosa. Sai che abbiamo trovato? Proprio la gazzetta di quel originale. Favero Maglia Gialla. Cioè qui la gente del suo paese praticamente leggeva? Il mio paese lasciavano i campi, lasciavano tutti, tutti alla radio. Il mio paese ha fatto festa, sì, quando sono arrivato. E volevo farvi vedere la maglia gialla. Ecco sì, questo è un ricordo del 58. Un bel ricordo perché partendo la prima volta che si va in giro di Francia, noi siamo andati per farla a Gregario Nincini e questa qua è ancora l'originale. Guarda, si è mantenuto ancora 50 anni e essere ricordato dopo 50 anni è una bella cosa. Cioè, ma non le fa emozioni. Aiuta a vivere, aiuta a vivere, sì. Anche se uno ha il raffreddore, li passa, se ha la febbre. Guarda, mi ricordano ancora il tibiontino e il duro. È la vita questa, no? La sento proprio, la sento veramente che uno ti ricorda dalla Francia, uno ti ricorda dal Belgio. È bello, è bello. Però già, perché un signore dal Belgio scriva Vito Favero, perché evidentemente le sue imprese lo hanno emozionato, vuol dire che lei ha lasciato un segno. È stato un po' un segno, sì, anche io nel mio piccolo, ma insomma, ognuno quando ha fatto quello che ha potuto fare... Ha fatto il suo dovere, dice lui. Il suo dovere, tranquillo. È finito. Vito Favero. Vito Favero. Grazie a tutti.